...di costruire un canto imitato di vibrazioni con un effetto cosmico, il suo modo della sua frequenza. Questo perché il nostro amore, il nostro canto, contribuirà a trasformare la rabbia, la sofferenza e il dolore in una maggiore pace, giustizia e finita da tutti. Qui e ora, donne, uomini, ragazzi, ragazze, giovani, anziani, sono chiamate a riaffermare la spaventanza dei giovani e la sopravvivenza del pianeta, insieme per le generazioni passate, presenti e future, qui e ora, per intornare il canto di vita e di speranza. Con il canto, il canto ci permette di trasformare la realtà. La via del canto rompe le barriere, crea fonte, ci permette di viaggiare per stati culturali diversi, ci porta a terra quando è necessario e celebra quando è una situazione che lo chiede. La via del canto è la musica, una con individuo e il gruppo che canta, così come una che scorta e percepisce. La via del canto, la via del canto, a radici della nostra madre terra, tocca le nostre cellule più profonde, risveglia le nostre emozioni addormentate e libera la presione e i condizionamenti. Su questo buco è il mio invito, con tamburi, suonari, con la voce, patendo le mani, con le chiavi, in qualsiasi modo, se volete partecipare e unirvi, visto che in questo momento tutto il mondo si sta calibrando, e per fare il numero, insieme adesso, possiamo anche divertirsi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.